good morning si qui sono yes qui are 10 e mezzo e come dico in questi casi andremo la mattina prestissimo la mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's me 14 2021 it's a saturday here in post 216 farin at around 22 se devo dire questa temperatura temperatura stabile diversi giorni bene così un buon tempo ottima temperatura and in this moment a clear clear after noon very still right now and with this the grise this means that it's that they really 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 soft like in this days in this period and it seems more summer climate in spring climate yes because fa un po più fa sembra che comunque si è clima un po più estivo che primaverile as riguarda il video tutti i don't know if I'll do it but if I'll do it as always is separate from this so eyes open if you are interested anyway as the end of all I just see from the window I think it's afternoon the temperature potrebbe ancora salire grow up penso proprio di sì 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 but ovviamente non siamo mai dei maghi su questo vedremo but the really important thing with this atmosphere eh is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente come sempre qui all along the way qualche ora è meno essendo un orario diverso rispetto a dove avete voi per cui speriamo di continuare così in questo trend che va avanti da quattro giorni se non ero per cui and finally say that it is so from the mythical window with the the orange red the blue green water curtain and it's green roller shooter behind the me on the top not visible any factor in the shot and finally from the mythical keyboard amatic x 640 ipg ipg 625 e e e great day in mold people follow the channel ricordi un saluto davvero a tutti and also i hope you will make great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brunto non so se lo sentite e soprattutto spero possiate consolarvi la vostra bella connessione se il tempo dovesse essere brutto per le vostre parti rispetto a qui i'll see you in the video toots if i'll do it or tomorrow or tomorrow or tomorrow or